buongiorno a tutti nuovo video di pillole di liturgia in questo oggi vi parliamo del tempo pasquale quindi che va dalla pasqua fino al sabato dopo la pentecoste se vi piacciono i nostri video vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per essere avvisati ogni volta che ne pubblicheremo uno apriamo dunque il messaggio romano in questo video parliamo del tempo pasquale si dà il nome di tempo pasquale a quel periodo formato dalle settimane che decorrono dalla domenica di pasqua fino al sabato dopo la pentecoste antichamente veniva chiamato anch'esso quinquagesima da non confondere con la omonima domenica prima della quaresima a causa dei 50 giorni che durava certamente il tempo pasquale è la parte più sacra dell'anno perché verso di essa converge l'intero ciclo liturgico ce ne renderemo conto proprio considerando l'importanza della festa di pasqua che era chiamata fin dagli inizi del cristianesimo la festa delle feste la solennità delle solennità allo stesso modo ci dice papa san gregorio magno per cui la parte più sacra del tempio di gerusalemme si chiamava il santo dei santi e tuttora si dà il nome di cantico dei cantici al sublime epitalamio dell'unione del figlio di dio con la santa chiesa è nel giorno di pasqua che la missione del verbo incarnato fino ad ora sempre tesa a questa meta raggiunge la pienezza del suo compimento è nel giorno di pasqua che il genere umano viene risollevato dalla sua caduta e rientra in possesso di ciò che aveva perduto a causa del peccato originale di adamo ma proprio perché questo giorno è santo fra tutti gli altri la chiesa non ha voluto che venisse a splendere su di noi senza che avessimo prima purificato il nostro corpo per mezzo del digiuno e restaurato la compunzione delle nostre anime e per questo fine ha istituito la penitenza quaresimale fin dalla settuagesima innanzitutto nel periodo pasquale dobbiamo considerare la santità della domenica don granger dice non era sufficiente celebrare il giorno solenne che ha visto cristo nostra luce sfuggire all'ombra del sepolcro un altro anniversario reclamava pure il nostro culto riconoscente il verbo incarnato è risuscitato il primo giorno della settimana lo stesso giorno in cui verbo increato del padre aveva cominciato l'opera della creazione sprigionando la luce dal seno del caos separandola dalle tenebre e dando così inizio al giorno dei giorni nella pasqua dunque il nostro divino risuscitato consacra la domenica una seconda volta ed allora il sabato cessa di essere il giorno sacro della settimana la nostra resurrezione compiutasi nostro signore gesù cristo una domenica completa la gloria del giorno iniziale il precetto divino del sabato soccomberà insieme con tutta la legge mosaica e gli apostoli d'ora in avanti ordineranno ai fedeli di santificare il primo giorno della settimana nel quale la gloria della creazione si unisce a quella della divina rigenerazione nel tempo pasquale nella soprattutto l'ottava di pasqua erano vietate tutte le opere servili e quindi a partire da questo momento come già detto don granger la domenica diventa il giorno del signore per eccellenza notiamo anche che nelle chiese orientali nel secondo nel terzo secolo il termine pasqua stava indicare piuttosto la passione morte di gesù come ci dice san paolo cristo nostra pasqua è stato immolato quindi facciam festa con gli azimi della purità e della verità il pistola la prima epistola ai corinti al capitolo 5 al versetto 7 quali sono le caratteristiche del tempo pasquale innanzitutto la ripetizione continua dell'alleluia la proibizione di certe preghiere in ginocchio l'assenza di ogni digiuno l'uso del colore bianco nelle funzioni liturgiche tutto questo per esprimere al meglio il gaudio e la vittoria di cristo sulla morte sul peccato la chiesa impone poi ai suoi figli di ricevere la santa eucarestia durante il tempo pasquale e questo dovere si fonda sulla stessa intenzione di del divino salvatore che se non ha fissato direttamente l'epoca in cui i fedeli avrebbero dovuto accostarsi a questo sacramento ha lasciato questa missione alla chiesa che nel quarto concilio lateranense nel 1215 stabilì che la comunione per i cristiani era strettamente obbligatoria una volta l'anno almeno a pasqua evidentemente si spera e si invita a fare di più e a fare meglio le prime cinque settivane del periodo dopo pasqua vengono chiamate appunto le domeniche dopo pasqua la prima ha un nome particolare viene chiamata la domenica in albis dal termine in albis depositis quindi quando i catecumeni battezzati la notte di pasqua deponevano le vesti bianche che avevano portato per otto giorni tutta l'ottava di pasqua è molto solenne qui abbiamo un'altra particolarità differenza con gli altri periodi dell'anno natale l'epifania per esempio nelle quali la festività durava tre o quattro giorni a pasqua invece si protrae per tutta la settimana a roma anticamente era una festa continua nell'ottava di pasqua sospesi gli affiari chiusi i tribunali rimandate le nozze la mattina si celebrava la messa e l'ufficio nelle principali basiliche della città il lunedì di pasqua lunedì dell'angelo la stazione a san pietro conveniva che fosse onorato il pastor ecclesie il martedì a san paolo fuori le mura e notiamo la stazione della domenica in albis ottava di pasqua a san pancrazio fuori dalle mure della città sulla via aurelia quando appunto tutta la liturgia parlava dell'infanzia spirituale ci si recava nella basilica di questo santo giovanetto martire cristiano di 14 anni per imparare con quanta generosità si deve servire cristo tutta la settimana di pasqua abbiamo una messa propria ogni giorno le orazioni sono indirizzate in particolare i nuovi battezzati e ad essi vi sono allusioni continue nella liturgia i vangeli sono quelli di delle varie apparizioni di gesù cristo agli apostoli agli piedonne e le epistole sono tratte dagli atti degli apostoli e significano in genere il rinnovamento spirituale dell'uomo a causa dell'opera della redenzione vi era poi il costume antico di benedire a pasqua i cibi in particolare quelli che erano stati proibiti durante la quaresima e che era invece lecito tornare a mangiare adesso la carne per esempio le uova da qui viene l'uso delle uova di pasqua di cioccolato il formaggio e il burro e si benedivano per evitare che nel loro uso dopo tanta stinenza non prevalesse il piacere sensuale il giorno di pasqua la stazione a santa maria maggiore perché alla madre di dio più di ogni altro doveva essere annunziata la gioia della resurrezione e vi è qui la tradizione apostolica che la secondo la quale la prima apparizione di cristo avviene a sua madre anche se non vi è traccia di questo nei vangeli anche sant' ignazio nei suoi esercizi ci ricorda questo avvenimento un'altra questione importante è la data della festa di pasqua la risurrezione dell'uomo dio era venuta di domenica la sua commemorazione quindi non poteva aver luogo in un altro giorno della settimana era perciò necessario separare la pasqua dei cristiani da quella degli ebrei la quale fissata irrevocabilmente al 14 della luna di marzo anniversario dell'uscita del popolo dall'egitto cadeva ora in uno ora in un altro dei giorni della settimana la loro pasqua non era che una figura la nostra realtà dinanzi alla quale l'ombra svanisce fu necessario dunque che la chiesa spezzasse quest'ultimo legame con la sinagoga e proclamasse la sua emancipazione fissando la più solenne delle sue feste in un giorno tale da non coincidere mai con quello in cui gli ebrei celebravano la loro pasqua sterile ormai di ogni speranza gli apostoli decisero che d'ora innanzi essa non sarebbe mai più il 14 della luna di marzo neppure quando questo cadesse di domenica ma che si sarebbe celebrata in tutto l'universo la domenica che segue il giorno in cui l'ormai scaduto calendario della sinagoga seguiva a piazzarla ecco quindi che viene spostata la pasqua cristiana rispetto alla pasqua ebraica finché le due cose non coincidessero. D'altronde Gerusalemme non doveva tardare a cadere sotto i colpi dei romani secondo le annuncio anche che ne aveva fatto Cristo la nuova città ricostruita sulle sue riovine abitata dalla colonia cristiana avrebbe avuto anch'essa la sua chiesa ma una chiesa completamente indipendente dall'elemento giudaico che la giustizia di Dio aveva in modo così chiaro ripudiato in quei medesimi luoghi. La maggior parte degli apostoli continua Don Geranger nelle loro lontane predicazioni e nella fondazione della chiesa in tante regioni situate anche fuori dai confini dell'impero romano non ebbero da lottare contro consetudini ebraiche delle loro reclute la più parte erano i gentili la chiesa di Roma che divenne madre maestra di tutte le altre non conombe mai altra pasqua che quella che unisce nella domenica il ricordo del primo giorno del mondo e la memoria della gloriosa resurrezione del figlio di Dio e di noi tutti che ne siamo le sue membra. Quindi vi furono nei secoli successivi molte dispute proprio sulla data della pasqua che non sto qui a ricordarvi. Fu poi il concilio di Nicea che promulgò l'obbligo universale di celebrare la pasqua di domenica e il decreto fu approvato all'unanimità dai padri componenti il concilio che ordinarono che essendo stata superata ogni controversia i fratelli orientali solennizzerebbero la pasqua nello stesso giorno dei romani degli alessandrini e di tutti gli altri fedeli. In questo modo l'unità della chiesa si manifestava anche con l'unità della liturgia e la cattedra apostolica fondamento della chiesa era quella che dava le direttive a tutte le altre chiese. Del resto anche prima del concilio di Nicea il pontefice romano aveva l'abitudine di indirizzare ogni anno una lettera alle altre chiese nella quale dava anche l'indicazione del giorno in cui si sarebbe dovuto celebrare la solennità della resurrezione. Per finire vi vorrei ancora citare Don Guéranger. Tutto il tempo pasquale, dice l'abate di Solenne per darci un po' la mistica e la pratica del tempo pasquale, è dunque come un solo giorno di festa e ciò che attesta anche Tertulliano già nel terzo secolo, rimproverando certi cristiani che per la loro sensualità si dolevano di aver dovuto rinunziare dopo il battesimo a tante gaie solennità del mondo pagano. Così loro diceva, se amate le feste ne trovate certamente da noi e feste di molti giorni non di uno solo come nel paganesimo dove una volta venuta la celebrazione non si ripete più per tutto l'anno. Per voi adesso tante settimane, altrettante feste, addizionate pure tutte le solennità dei gentili, non arriverete mai ai nostri 50 giorni della Pentecoste. Sant'Ambrogio sul medesimo soggetto scrivendo ai suoi fedeli fa questa osservazione, se gli ebrei non contenti del loro sabato settimanale ne celebrano un altro che dura tutto un anno, quanto più dovremo fare noi per onorare la resurrezione del Signore? E' per questo che ci hanno insegnato a celebrare i 50 giorni della Pentecoste, quale parte integrante della Pasqua. Sono sette settimane complete e la Pentecoste ne comincia l'ottava. Come in ogni domenica che è il giorno della resurrezione del Signore, anche durante questo periodo la Chiesa vieta il digiuno perché simili ad una sola ed unica domenica sono considerati tutti questi giorni. Dice ancora Dom Guéranger nella mistica e pratica del tempo pasquale. Troviamo qui nel tempo pasquale il punto culminante della redenzione con le tre grandi manifestazioni dell'amore e del potere divino. Risurrezione, ascensione e discesa dello Spirito Santo. Nell'ordine dei tempi tutto ha servito a preparare questa conclusione, in seguito alla promessa fatta ai nostri progenitori dopo la loro colpa, dal Signore irritato ma misericordiosissimo e nell'ordine della liturgia, dopo le settimane di attesa dell'avvento, eccoci giunti al termine e Dio appare come una potenza e una sapienza che sorpassano infinitamente tutto ciò che noi potevamo prevedere. Gli stessi spiriti celesti ne rimangono confusi di ammirazione e stupore e la Chiesa ce lo esprime in uno dei cantici del tempo pasquale. Gli angeli, è detto, sono commossi dal terrore vedendo la rivoluzione che si opera nello stato della natura umana. La carne ha peccato e la carne che purifica un Dio viene a regnare e in lui la carne è unita alla divinità. Queste sono le caratteristiche particolari del tempo pasquale. Infine vi ricordo sempre la massima cattolica, l'ex orandi, l'ex credendi, la legge della preghiera è la legge della fede, la legge del credo cattolico e quindi la liturgia è il veicolo come sempre è della nostra fede. Che Dio vi benedica!